Vi auguro una serena giornata con questo messaggio ambientalista. Sei un angelo terrestre nato per proteggere, nutrire la natura e gli animali e insegnare ciò che sai agli altri. La tua passione per l'ambiente nasce dall'anima. In una vita precedente il tuo impegno consisteva nell'aiutare il pianeta. Puoi avvertire questa sensazione ogni volta che ti preoccupi dell'inquinamento e quando provi amore per gli animali, i fiori e gli alberi. Spesso ti senti più vicino agli animali che alle persone perché la tua anima vibra con l'onestà e la bellezza della natura. Questa carta giunge come ispirazione e motivazione ad agire in favore dell'ambiente. Tanto per iniziare, adotta uno stile di vita ecosostenibile e usa materiali reciclabili. La tua carriera legata all'ambiente può coinvolgere animali come dog sitter, addestramento, eccetera, piante, botanica, giardinaggio, architettura, paesaggistica e cose simili, cristalli, bacini d'acqua, qualità dell'aria, energia alternativa, eccetera. Fai attenzione alle tue passioni spontanee. Sono i segnali che indirizzano le azioni da intraprendere nella tua comunità per proteggere la natura e gli animali. Ogni volta che sei preoccupato per qualcosa, interpreta come un segno che ti guida verso il tuo scopo. Tutte le volte che pensi qualcuno dovrebbe fare qualcosa per questo problema, sappi che quel qualcuno sei proprio tu. Questo è il messaggio del buongiorno.